Ciao, praticamente oggi vi vorrei parlare di un libro per chi si vuole avvicinare al buddismo. Ovviamente a parte felicità in questo mondo, sicuramente è il libro principale per avvicinarsi al buddismo e sapere le prime cose, però c'è questo libro che io ho comprato quest'estate di Giuseppe Closa, Life of Fallness, la pienezza della vita attraverso il buddismo. E devo dire molto, molto bello, sia per chi fa i primi passi nel buddismo, cioè chi si avvicina da poco al buddismo, sia per chi già lo conosce. E ci sono dei passi, non so, tipo vi vorrei leggere qualcosa. Vabbè, qui cita appunto Sensei, il nostro maestro, e dice il principio dei tremila mondi, insegna che il nostro cuore aumente, racchiude tutti i fenomeni dell'universo. E questo per dire cosa? Quando noi parliamo di mondi, noi buddisti, intendiamo i dieci mondi, che partono dal mondo dell'inferno a quello della buddità. Ora, non fatemi dire tutti, perché tutti insieme c'è l'animalità, c'è l'avidità, c'è la collera, c'è quello dello studio, c'è quello dell'estasi, del bodhisattva. Ci sono questi dieci mondi, e noi ogni giorno, per esempio io stamattina mi sono svegliata, ed ero particolarmente di cattivo umore. Vabbè, devo andare a fare la terza dose di vaccino, e forse così ho un po' paura, oppure, non so, mi produce delle emozioni che quasi subunconscia. Però, comunque, stavo in un mondo, non dico proprio dell'inferno, ma non del Buddha. Poi ho recitato insieme a dei compagni di fede, in questo periodo, diciamo, del coronavirus, si sono create tutte queste realtà, anche parallele, perché non si può recitare insieme. E quindi, su internet, ho recitato con questi compagni. Ed è vero questo fatto dei tremila mondi, perché ora sto meglio. Cioè, comunque, ho visto il fatto che è vero che io ho molti limiti meno, però sono dei limiti che posso anche superare. Poi, che ne so, dimentichiamo le opinioni negative che ci arrivano costantemente, dice, cerchiamo sempre conferma al di fuori di noi. Facciamo continuamente confronti, e così finiamo per ascoltare sempre le opinioni negative che ci vengono lanciate addosso. Le respiriamo e assorbiamo come una sostanza intossicante che contamina la nostra energia, prosciuga la forza vitale, così chi ci si giudica ascoltando le opinioni e pensieri degli altri. E alla fine ci si disprezza, si perde la fiducia in se stessi, ma in questo modo si crea una disarmonia dentro, in qualche modo ci stiamo rinnegando, rinnegando la vita. La mia ora in che cio non si attiverà, quindi non si attiveranno tutte quelle connessioni con l'ambiente, che poi chiamiamo coincidenza o fortuna o circostanze favorevoli. E le cose che non andranno mai come vorremmo, rafforzando e confermando le opinioni negative. Questo è un po' il fatto delle credenze, no? Ti dicono da sempre magari non ce la fai, ma perché è proprio opinione comune, no? Non ce la fai a fare questo, non ci riesci. Te lo può dire un genitore, ma te lo può dire un amico, un'amica, te lo può dire un cugino, te lo può dire chiunque. Te lo può dire soprattutto tu stessa, che dopo aver sentito queste opinioni per anni, oramai sei convinto di non farcela da solo. O comunque di avere delle forti lacune. E il bello del buddismo è proprio quello che si può trasformare. Cioè nel senso, io è nammyo, reghekyo, significa dedica la tua vita alla legge di caso effetto. Ma mi sembra che proprio il carattere mio significa aprire la vita. Quindi invece di chiuderla in un guscio, per esempio a me era successo di chiuderla in un guscio proprio enorme, cioè non riuscivo a fare un passo da sola. Poi sono sprofondata nell'abisso più totale. E da quell'abisso però sono uscita fuori come nuova in qualche modo, come se quell'abisso avesse una sua funzione nel tutto. Anche se può sembrare strano, perché quando tu tocchi il fondo, ti immergi nel fondo, no? Come succede alle persone che non so che hanno una dipendenza da eroina o hanno una malattia che stanno malissimo. Però poi, misteriosamente, che ne so, i valori tornano normali. La malattia, tra virgolette, scompare o comunque migliora. Questo perché succede? Perché la vita è in eterno cambiamento. E questo cambiamento, che noi vediamo quasi sempre in negativo, a volte invece è in positivo. Cioè a volte questo cambiamento non è per peggiorare, ma per migliorare. Io quando mi trovavo nell'abisso, e non vi sto a spiegare quale tipo di abisso, ma ho problemi miei di natura psicologica, e sono stata male, ma male per stare male, no? Male per andarsi a bere un caffè al bar, cioè male. E purtroppo mi sono sentita in quel momento anche senza fede. Ma fede nel buddismo cos'è? Nel buddismo la fede è la fiducia soprattutto nella propria vita, nel potenziale della propria vita, nella forza della propria vita. E nell'importanza di dire che ogni giorno è un giorno importante. Cosa dice? Cos'altro dice qui che potrai? La libertà del risveglio. Vedi, infatti dice, nella vita ci sono delle sofferenze che non si possono evitare, che il buddismo chiama le otto sofferenze. La nascita, la crescita comportano certamente sofferenza, poi ci sono la malattia, l'invecchiamento, la morte. E ancora la sofferenza di non poter realizzare i propri desideri, quando leghiamo la nostra felicità a qualcosa di esterno, per cui siamo in balia degli eventi. La sofferenza di doversi separare da chi si ama, di dover incontrare e avere a che fare con chi invece non si sopporta. Queste sono le otto sofferenze. Le più importanti sono quella della nascita, vecchiaia, morte e malattia. La malattia è uno strumento per guardare oltre, praticamente può diventare uno strumento che ci fa vedere oltre. La morte è qualcosa che comunque fa parte del ciclo della vita. Certo, noi abbiamo molto il tabù della morte. Io ho una paura, cioè oggi vengo a andare a fare il vaccino, oggi mi vedo, non lo so come, no? A volte ho proprio paura di questo passaggio, no? Questo passaggio mi spaventa tanto, ma a volte i buddhisti lo dicono come se ti vai a dormire e poi ti risvegli magari in un'altra persona. Io spero di svegliarmi in un uomo manager che ha tutto con sé, fiducioso di sé, tipo coaching. No, no, spero di no. Spero di svegliarmi in una donna guaritrice di altri tempi che però sta in questi tempi, ecco. E spero anzi di esserlo da ora, una persona che cerca di creare valore attorno a sé, che per noi buddhisti che cosa significa la parola creare valore, cioè creare valore nei rapporti, col dialogo per esempio, fare il primo passo, lì dove magari non mi capisco con una persona e a me capita molte volte con mio padre, con il mio compagno, con le mie amiche di non capirmi. Ma sembra in quel momento che si parlano lingue diverse, magari uno si sta dicendo la stessa cosa e due, ci sono punti di vista diversi, per fortuna ci sono punti di vista diversi e queste sofferenze attraverso noi, la recitata direzione di Nam-myo, Ren-ke-kyo, cerchiamo di superarle o comunque di andare avanti, cioè la vita è vista come dobbiamo vincere, ma non vincere nel senso del... e dobbiamo essere persone capaci, ma non visto nel senso che la sconfitta è qualcosa da vedere come qualcosa di negativo, ma è solo un trampolino per ripartire, per rivincere, come rilanciare, no? Come quando giochi a carte, anche se non ci so giocare, so che si rilancia e lì tu rilanci praticamente, perché comunque la vita ce l'hai ancora in mano, è ancora tua, anche se hai perso, hai ancora il potenziale di rilanciare e finché ce l'hai non te lo toglie nessuno. E questo è un po' quello che anche dice il buddismo e che penso anche io tra l'altro. Poi questa è la frase clou del buddismo nel concetto di rivoluzione umana, che la rivoluzione umana di un singolo individuo contribuirà al cambiamento nel destino di una nazione e condurrà infine al cambiamento nel destino di tutta l'umanità. Questo è molto interessante, è un po' come diceva Gambino, sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Cioè io rivoluziono me stessa, cioè cerco di migliorarmi nelle mie tendenze ipernegative, che ne so, la possessività, l'ira, l'avidità non tanto, ma non so, le paure estreme. Cerco di migliorarmi, di rivoluzionarmi e poi aiutare anche chi mi avvicino a vedere la vita magari in un'altra maniera. Perché se io per esempio mi avvicino a un'amica e le parlo solo delle funzioni negative della vita, quella non sarà contenta. Oggi se leggi giornali, diciamo oddio qua, 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 qua. Invece, ma quasi questo inverno si sta trasformando in una meravigliosa primavera anche per quanto riguarda questa pandemia. E anche questa pandemia, per quanto assurda, dovrà aver avuto una sua funzione che a noi umani ovviamente sfugge. E sicuramente, non è che tu dicià che è bello che c'è stata la pandemia. però io questo non riesco a comprenderlo perché non sono, non so, una filosofa o una buddista propondo al Dalai Lama o al Buddha, oddio. Però c'è una motivazione dietro tutto ciò che accade nell'universo. E noi possiamo cercare, diciamo, di dare il meglio attraverso la nostra rivoluzione umana. Ma penso che anche chi non è un buddista, cioè non è che per forza tutti, cioè noi, vabbè, abbiamo lo shakubugo che parliamo di buddismo agli altri e li avviciniamo a quello in cui noi crediamo perché pensiamo che a noi ha dato tanto e quindi ci fa piacere che anche l'altra persona abbia quello che noi abbiamo avuto in dono con questa pratica. Però anche chi non è buddista può rivoluzionarsi, può cambiare, può smettere di ripetere ogni giorno gli stessi tragitti, le stesse credenze, anche cristiani. Io ho avuto in questi ultimi giorni dei contatti con dei frati molto belli che mi hanno detto cose ispirantissime, quindi anche questo dialogo interreligioso in cui il nostro presidente crede molto perché la fede mi ha detto questo frate tu sei buddista, non è che devi diventare cattolica perché entrambe queste fedi vanno verso il bene, quindi non sono sbagliate nell'una nell'altra e questo è segno di grande apertura mentale. Per esempio, per dire, cioè il fatto che lui si sia espessa così. E mio, parlando proprio del carattere mio di cui vi ho parlato, mio è un ciclo che pervade tutta la nostra esistenza nella quale sperimentiamo infinite nascite, morti e rinascite, guarire da una malattia, chiudere una relazione, aprire un nuovo capitolo della propria vita, un ciclo che opera in ogni istante, ad esempio con le cellule che nascono e muoiono continuamente dentro di noi, tutto cambia in superficie mentre l'essenziale vitale mio è sempre la stessa. Quindi questo eterno cambiare è l'eterno rimanere se stessi.